Grazie Presidente Nervo, grazie a tutte e a tutti voi per essere qui, un particolare saluto e ringraziamento al Dottor Marchionne per averci onorato con la sua ospitalità oltre che con la sua presenza, un saluto naturalmente al Ministro Calenda cui spettano istituzionalmente le conclusioni anche alla luce della straordinaria tenacia con cui sta lavorando sull'industria 4.0 e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti ma siano soprattutto davanti agli occhi di tutti, perché nel momento in cui si entra a Cassino avrebbe quasi voglia di guardarsi indietro, 1970 inizia la costruzione, 1972 la prima auto, la 126 e gli italiani che se ci sono ci seguono da casa in questo momento non possono che pensare a quell'auto e alla meravigliosa nostalgia di quei tempi, è evidente che la 126 non aveva caratteristiche tecniche paragonabili alla Giulia o allo Stelvio, ma se dite a un italiano di risalire ai tempi della sua 126 sicuramente avrà i momenti di passione, di nostalgia, di ricordo appassionato e bello di quella stagione e naturalmente questo è un modo di guardare a un luogo, dare la precedenza alle emozioni che quel luogo ti suscita, innanzitutto la nostalgia e il ricordo dei tempi che sono stati. Poi guardi il presente e nel presente vedi una situazione in cui si sono attraversate molte difficoltà, in cui qualcuno diceva che il tempo per l'auto in Italia era soltanto il passato, in cui in tanti hanno evocato le chiusure, in cui si è sofferto, in cui si è avuto paura di non ripartire e oggi però vedi che piano piano le cose si rimettono in moto e ci sono centinaia di persone, 4.300 persone che qui con la loro passione, con la loro dedizione lavorano a Cassino, ma ci sono in tutte le vostre realtà, non soltanto quella di Fiat Chrysler qua a Cassino, ma ci sono praticamente sparpagliate in tutta Italia, perché l'Italia è tornata ad essere, non ha mai smesso però alcuni aspetti, la patria dell'automobile. E allora c'è l'elemento del futuro, l'elemento del futuro che è Industria 4.0, lei Presidente ne ha tratteggiato i contorni, lo farà molto meglio di me il Ministro Calenda, individuando anche i riferimenti puntuali che stanno dentro la legge di stabilità, non stiamo raccontando di progetti, non sono semplicemente slide di introduzione alla materia, stiamo discutendo di leggi, di soldi, 20.4 miliardi di euro di incentivi fiscali, 20 miliardi di incentivi fiscali che però vanno spesi, che vanno investiti subito, vale a dire che vanno dati a chi vuole investire subito, a chi innova davvero. È probabilmente il più grande piano di politica industriale fatto da anni a questa parte e la parola industria torna ad avere cittadinanza in Italia dopo che per anni una certa cultura aveva fatto credere o quasi sussurrare che potessimo comunque tutto sommato diventare un grande centro servizi, un grande parco giochi, la Disneyland di quelli che da lunedì al venerdì lavoravano nel nord Europa e che poi in sabato e la domenica venivano a prendere un po' di sole e un po' di cibo buono. Abbiamo rimesso l'industria al centro, che non vuol dire naturalmente non fare di tutto per investire sull'agroalimentare, sul turismo, sull'innovazione o sulla qualità della vita, ma l'industria come elemento qualificante il nostro lavoro. E allora questa storia che riguarda le auto smette di essere la nostalgia della 126 e diventa l'attesa dello Stelvio e diventa l'attesa di un grande successo internazionale che può funzionare per la qualità del prodotto che nasce qui, ma che può funzionare a maggior ragione perché c'è un brand che è Alfa Romeo. Alfa Romeo, brand storico con gli alti e i bassi che conosciamo, ma un brand fantastico in tutto il mondo che riparte e chiama al futuro. Perché ho fatto tutto questo lungo elemento introduttivo sull'auto? Perché voglio dire che ci sono delle similitudini con l'Italia che sono sotto gli occhi di tutti. Si può vivere di nostalgia e pensare che il tempo migliore sia quello che non c'è più. Sono in tanti che lo dicono, che lo pensano. Sono in tanti che raccontano come il ragionamento politico due punti, virgolette, si stava meglio quando si stava peggio. Sono in tanti che non hanno la fame del futuro, ma affidano a una consolante ricostruzione, peraltro spesso discutibile, del passato la propria serenità e la propria tranquillità. Sono politici e leader politici che hanno smarrito il senso della sfida del presente e del futuro. Un imprenditore, un lavoratore, quando entra in azienda oggi, perché entra in azienda? Ovviamente per avere un salario, uno stipendio, a cominciare dall'operaio, ma lo fa con una passione e una determinazione perché vuole che quel lavoro sia fatto bene, perché ci crede, perché noi italiani non siamo quelli che sono semplicemente raccontati come talvolta una parte della politica ha fatto negli ultimi anni. E un imprenditore che entra in azienda, certo ci sono imprenditori che sono più prenditori che imprenditori, ma ci sono tanti imprenditori che se aprono ogni mattina le loro aziende non lo fanno per il gusto semplicemente di cercare di far soldi, chiaro che questo c'è, nessuno fa la fate bene, fratelli, nel mondo dell'impresa, ma lo fanno perché credono a una missione, a una responsabilità sociale dell'impresa, perché forse se mettessero i soldi in altre forme guadagnerebbero anche di più, ma se lo fanno è perché credono in quel lavoro lì. L'Italia deve tornare a credere nel presente e a immaginare il futuro, non soltanto a ricordare i bei tempi più o meno belli che erano al passato. Ecco dove sta la similitudine e Industria 4.0 diventa l'elemento chiave della legge di stabilità, certo, ma anche il simbolo di un paese che ha voglia di costruire un orizzonte diverso, che ha voglia di riportare la parola futuro dentro il dibattito politico. Perché il presente l'abbiamo visto, noi siamo al governo ormai da mille giorni, siamo arrivati e tutti ci dicevano non faremo la fine della Grecia. Il massimo obiettivo era non far la fine di quelli che stavano male. Con un po' di arroganza, con un po' di ambizione, con un po' di entusiasmo abbiamo detto il nostro obiettivo non è quello, il nostro obiettivo è quello di fare meglio della Germania. E non è mica facile, lo sanno le industrie automobilistiche che non è mica facile fare meglio della Germania. Eppure questo deve essere l'obiettivo e quando l'ingegnere responsabile, uno dei tanti team leader mi raccontava che la postazione ergonomica, che è immaginata, non ha paragoni con altri, che il procedimento dell'industria, della filiera produttiva era comunque un procedimento che aveva dei punti di riferimento in grado di competere con qualunque altra azienda al mondo. Io vedevo negli occhi di chi mi raccontava questo qualche istante fa l'orgoglio. Vorrei che ci fosse lo stesso orgoglio nel paese. che naturalmente impone di affrontare le tante sfide, a cominciare dalle sfide dell'attualità che riguardano innanzitutto l'Europa, perché l'Europa deve cambiare totalmente passo, perché l'Europa così com'è sull'immigrazione non va bene, perché l'Europa così com'è sull'austerity non va bene, perché l'Europa va cambiata non da una parte politica di questo paese, ma dall'Italia, nella sua interezza, che deve tornare a mettere la parola interesse nazionale al centro della discussione. Questo è il motivo per il quale stiamo combattendo, ma queste sfide hanno bisogno di un paese in grado di crederci e di avere passione, determinazione, orgoglio. E allora, se questo c'è, c'è il futuro. Che è complicato. Che è complicato. Noi siamo molto orgogliosi, lo diceva Altavilla prima, della qualità di Comau, per esempio. Ma dove ci porta la robotica, l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie? Siamo in grado di immaginarlo oggi? Sappiamo che se l'Italia fa l'Italia deve essere nel gruppo di testa. Deve smettere di pensare che il proprio orizzonto sia non fare la fine della Grecia, sia tirare fuori la straordinaria qualità che questo paese ha e provare concretamente a rimettere in moto le energie migliori. I risultati poi si vedono. Lo dico qui a Cassino, che come Melfi, come Pommigliano, come Mirafiori, come Grugliasco, è oggi una delle capitali dell'auto. Se qualche anno fa i profeti del dico no a tutto avessero avuto la meglio, i profeti del è però bisognava fare in un altro modo, i profeti del no chissà cosa c'è sotto, i profeti del blocchiamo e poi ripartiamo. Se avessero vinto loro, oggi non ci sarebbe una presenza di 4.300 lavoratori a Cassino che diventeranno 4.300 più 1.800, facciamo 6.300, 200 in più, riprenderete spero, nell'arco dei prossimi 18 mesi, 24 mesi. Se avessero vinto quelli del intanto blocchiamo poi vedremo, non ci sarebbe più industria automobilistica in Italia. Per questo io sono grato innanzitutto a Fiat Chrysler, al suo management, alla forza e alla passione che è stata messa in campo per partire e ripartire e dico allo stesso modo che è una grande metafora del nostro Paese. Quelli che vogliono bloccarci hanno magari le migliori ambizioni. Sono persone sicuramente dotate di buona volontà, ma non si rendono conto che se si ferma il Paese chi ne fa le spese non sono, come dicono alcuni grandi mercati internazionali, quelli se la cavano sempre. Non preoccupatevi per i mercati finanziari, come fare a salvare la pelle per i mercati finanziari lo sanno benissimo da soli. Ma se il Paese si blocca, chi ne paga le spese è il ceto medio, è la gente che vuole arrivare alla fine del mese. E allora proprio per questo motivo io assicuro il massimo impegno del Governo all'industria automobilistica per continuare a lavorare insieme. Penso ai tanti distretti vedendo alcuni amici e alla loro professionalità e anche alla loro per alcuni aspetti straordinaria intuizione e genialità, perché poi in Italia ci sono delle cose meravigliose e non ce ne rendiamo neanche conto fin tanto che non le scopriamo in uno sperduto angolo del mondo. Ma lo dico con la consapevolezza che i nostri investimenti non sono il frutto di una trattativa tra un comparto dell'economia e il Ministro. Sono il frutto di un ragionamento, di una riflessione, di una strategia. Noi vogliamo bene al nostro passato. Noi siamo innamorati delle 126. Però noi vogliamo anche e soprattutto costruire un presente più giusto per le lavoratrici e per i lavoratori e un futuro di speranza per i nostri figli. Ed è per questo che ci aspettiamo. La Giulia, che già c'è, e lo Stelvio che ci sarà, non soltanto come prodotto di un grande marchio, ma come una grande opportunità di crescita e di valorizzazione per il Paese. Viva l'Alfa Romeo, viva l'Italia! Grazie.